Buongiorno e bentornati in Infermieri Porderone in questa puntata di Infermieri Onderotta in direzione Londra. Due minuti di presentazione del video che presenteremo a breve. Ok, buongiorno a tutti. Non guardo in camera, guardo la strada perché è prudente. Stiamo andando a conoscere un infermiere noto tra gli infermieri che si occupa degli infermieri che vogliono andare all'estero. Voglio dire, ci siamo svegliati le sette di stamattina, le sei e il quarto stamattina, sempre le sette. C'è una bellissima neve, se vuoi inquadrare dopo puoi inquadrare. L'estate però sono percorribili. Ci vediamo presto, al prossimo video!